Come 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 come? Pross! A piedi! In piazza chiesa! Questo è il Pross! Pross! A te noi! In piazza cartello! The Bross! The Bross! Il Bross! A santo Stefano dietro la chiesa! Pross! The Bross! E a lotto! In piazza! Questo mese in tutti i negozi per ogni 100 euro di spesa 20 euro di sconto! Uuuuuh! Pross! Questo mese in tutti i negozi per ogni 100 euro di spesa 20 euro di sconto!